Nubi di insetti volanti stanno per invadere la costa ionica, segnalazioni a Gallipoli, in Puglia, Manca, Torre San Giovanni e Lido Marini. Il fenomeno piuttosto atipico si è verificato qualche sera fa dopo il tramonto, quando dei residenti turisti hanno incominciato a notare una concentrazione piuttosto, diciamo così, considerevole di animali volanti, che con ogni probabilità spuntavano dai canali e dai bacini della zona. In pochi minuti hanno invaso le marine salentine sullo Ionio, che in queste settimane sono piene di turisti e di bagnanti. Gli stessi vacanzieri che in pochi minuti si sono ritrovati addosso addirittura insetti di ogni tipo, tra i capelli, sugli abiti, i piccoli piatti in cui mangiavano. Insomma, l'assedio non ha risparmiato nemmeno i ristoranti della zona, dove Cenerale Aperto si è tramutato in un incubo in piena regola. Negossi e attività commerciali hanno dovuto provvedere in fretta e furia a mettere la merce al riparo dall'invasione di questi insetti. Vi ringrazio per la visione e in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Informatemi se avete visto il programma di questi insetti nel caso in cui abitate in Meridione, in Meridio Puglia, in Salento. Al prossimo video di Alejandro Navarro Italiano. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale.